Le canzoni italiane più famose nel mondo rilette da due artisti accumunati dalla stessa passione, il canto. Un omaggio alla grande musica italiana prodotta a cavallo tra gli anni 50 e 60, canzoni rimaste nella storia, evergreen che hanno segnato gli usi e i costumi di un'intera generazione e sorprendentemente ancora attuali. Karima e Walter Ricci, ospiti della rassegna Gezza Corte a Palazzo delle Arti Beltrani, hanno affrontato questa fantastica avventura portando in scena Italia Evergreen, un progetto che racchiude tutta la loro professionalità accumulata negli ultimi vent'anni di carriera con grande passione, stile e complicità. Dobbiamo ricordare al mondo cos'è l'Italia, il bel canto, le belle melodie e ritornare un po' alle radici. Avevamo voglia di musica, di cantare. Avevamo voglia di cantare le melodie italiane che ci danno modo anche di esprimerci meglio.